Bella gazzettari e ben ritrovati con un nuovo video qui sulla gazzetta MMA. Ritorniamo sul tema UFC 300 perché il capoccia di UFC Dana White ha confermato un incontro davvero ma davvero incredibile. Si tratta della divisione femminile dei Bantanweight e le atlete sono Holly Holm e Kyla Harrison ragazzi. Su Holly Holm non ci sorprendiamo più di tanto perché è comunque sì una veterana, una fighter che comunque ha fatto la storia di questa division. Però Kyla Harrison ragazzi non solo è pluricampionessa di PFL ma secondo me è anche l'atleta femminile di nazionalità americana più forte in questo sport. Arriva in UFC vi ripeto dopo i suoi trascorsi in PFL con un record di 16 a 1, un atleta di 33 anni. Quindi si andrà a scontrare con una Holly Holm che ha un record di 15 a 6 e da 42 anni ma che vi ripeto è davvero una vera veterana di questa division. Un annuncio che non mi aspettavo ragazzi perché il tutto è davvero passato in sordina, non se ne parlava per niente. Nonostante Dana White un mesetto fa aveva detto che c'era qualcosa di davvero grosso che stava bollendo in pentola ma non ci saremmo aspettati diciamo un arrivo di Kyla Harrison in UFC. E invece è successo quindi un'altra stella davvero di altissimo calibro, campionessa olimpionica di judo, davvero una fighter molto 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 forte e interessante che si porta dietro tanto appeal e tanto hype. Secondo me a questo punto è interessante anche andare a valutare le dichiarazioni fatte dalla Leonessa perché ragazzi la Leonessa ha deciso, insomma ha detto che potrebbe tornare fondamentalmente, che quindi non è stato un addio al mondo delle Mix Martial Arts ma Amanda Nunes potrebbe tornare a combattere. Il che fa riflettere soprattutto adesso che c'è stata la conferma di Kyla Harrison in UFC. Quindi un periodo a livello femminile non bellissimo per la promotion statunitense che vi ripeto aveva perso, poi si è capito che è stata una perdita momentanea ma inizialmente pensavamo che era stato un vero e proprio ritiro quello della Leonessa Amanda Nunes. Precedentemente la UFC aveva anche fatto fuori Chris Cyborg, un'altra davvero fighter molto molto forte che si portava dietro tanto hype e tanto interesse da parte del grande pubblico. Quindi un arrivo molto interessante è quello di Kyla Harrison. Negli ultimi anni avevamo visto per lo più fighter UFC di medio livello mollare la UFC per entrare in PFL e tra l'altro non tutti i fighter di medio livello perché c'era stato per esempio anche Francis Ngannou, però per lo più i fighter che si spostavano dalla UFC a PFL fino adesso erano fighter che tranne Francis Ngannou non avevano brillato particolarmente nella promotion di Dana White e che si erano ritagliati un posto nella PFL che offriva anche ottimi stipendi. Questa però è la prima volta che un big 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 della PFL molla la PFL per andare in UFC, quindi un attimo un'inversione di rotta. Quindi fatemi sapere voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Ragazzi vi ripeto che adesso con questo ulteriore annuncio UFC 300 sta diventando una card davvero molto 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 interessante. Quindi fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e noi ci vediamo a breve con un prossimo video. Ciao belli! Ciao belli!